Grazie a tutti il mio avvicinamento a 117. La quantità varia rispetto all'aercizio, in questo caso 10 cm al secondo, vedete il portaporto di attracco subito in altra sinistra al centro, che è il cecolare con il mio avvegliante. 22 metri a distanza dalla sezione, 1 con 2 metri per il portaporto di attracco. 22 metri per il portaporto di attracco. 22 metri per il portaporto di attracco. 23 metri per il portaporto di attracco. 23 metri per il portaporto di attracco. 23 metri per il portaporto di attrazione. 23 metri per il portaporto di attrazione. Grazie a tutti.